Insieme al riposo e divertimento, altro momento importante dell'estate è il periodo dei saldi in calendario da sabato 6 luglio fino al 3 settembre, almeno in Abruzzo e in gran parte d'Italia. Quasi due mesi in cui gli acquirenti possono approfittare di sconti e offerte che vanno da un minimo del 30 fino ad un massimo del 70%. La spesa media prevista, secondo alcuni studi, si aggira sui 230 euro a testa. Al di là però dei numeri, quali sono le attese delle associazioni di categoria. Sentiamo Marina Dolci, Confesercenti Pescara ed Enzo Dottavia Antonio, Federmoda, Confcommercio Pescara. Noi dal centro-sud, avendo queste temperature alte sia d'inverno che d'estate, volevamo uno spostamento avanti della data dei saldi, però l'Italia è divisa a metà. L'unica cosa è che gli sconti ci saranno, ci saranno delle belle percentuali e comunque venite in città, noi chiediamo sempre all'amministrazione di essere comunque vicini al commercio e quindi proponiamo, chiediamo una giornata di sconto sul parcheggio o comunque un'attenzione di riguardo verso i parcheggi proprio di essere abbastanza elastici. Se qualcuno lascia la macchina due minuti in doppia fila devono essere così categorici subito con la multa. Più che aspettarmi è un augurio che faccio al commercio cittadino di vicinato, delle grandi città ma anche dei paesi affinché questo saldo possa essere un saldo positivo per noi commercianti che ci dia un po' di respiro e ci permette di chiudere brillantemente pagando i nostri fornitori la stagione primavera estate. Il consumatore troverà tanto assortimento perché purtroppo il saldo avviene troppo presto, i nostri magazzini sono ancora pieni di merce per cui per i consumatori sarà un buon saldo perché ci sarà mediamente una buona offerta commerciale. Gli esercenti stanno già prezzando i cartellini che devono seguire regole precise. Troverete il prezzo iniziale del cartellino, meno la percentuale e la cifra finale dello sconto. I clienti devono provare, noi li inviteremo a provare il capo perché comunque nel momento della vendita loro possono vedere la qualità, se c'è un difetto, se c'è una macchia. In caso di prodotto difettoso che può fare il cliente? Il cliente comunque deve mantenere lo scontrino fiscale, può tornare nell'attività commerciale dove l'ha comprato e poi si vede se il difetto era preesistente, comunque ci sarà il cambio o se non c'è la misura o lo stesso articolo ci sarà un buono di acquisto da poter utilizzare dopo. Altro obbligo degli esercenti è accettare le carte di credito o i bancomat come avviene per gli acquisti online. L'online è un grosso problema, però ci tengo a precisare che l'online non dà il servizio, la professionalità che il negozio di vicinato dà al proprio cliente e quindi ancora una volta scegliete, mi ribadisco e mi ripeto, scegliete i negozi di vicinato.